io lo so io lo so che adesso mi scrivete sotto perché vi conosco se pensiamo a noi se pensiamo al milan non pensiamo agli altri perché il milan deve ancora giocare una partita molto importante molto difficile è vero avete ragione ma nel profondo del vostro cuore guardiamoci negli occhi nel profondo del vostro cuore quando gioca l'inter e quando succedono queste cose non avete gufato non state gufando non state godendo dita la verità non facciamo ai falsi è vero dobbiamo pensare a noi ma non avete gufato non state godendo io tantissimo anche se devo ancora giocare udinese che si rivela sempre una squadra rognosa udinese che di solito gioca con una muraglia cinese riparte e invece oggi ha beccato l'inter cosa succede verso il settantesimo quando le squadre si sono allungate tantissimo l'udinese mette alle corde l'inter incredibilmente prima va vicino al 2 1 con un palo poi sbaglia un gol e alla fine arriva il gol del 2 1 ma l'udinese ha messo alle corde l'inter inter che era andata in vantaggio con una punizione dopo quattro minuti cinque minuti udinese che la riprende con un autogol se non mi sbaglio di scrignar ma udinese che ha meritato ha meritato questo risultato secondo me meritava ancora di più per quello che ha fatto quindi pensiamo al milan ma guardiamoci negli occhi non state godendo se state godendo iscrivetevi al canale adesso lo so che gli interisti mi iscriveranno sotto il napoli stasera ti fa un culo così è vero avete ragione avete ragione probabilmente sarà una bella partita ci faranno un culo così vinceremo noi quello che volete ma nel frattempo io godo ciao 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 ciao